È la mia vita, decido io. Io sono tua madre, non posso permetterti di buttarla via così, hai capito? Ma davvero vuoi smettere di studiare? Hai sempre detto che volevi fare il medico. E adesso ho cambiato idea possibile che non riuscite ad accettarla. Se è quello che vuole, io penso che dovrebbe provarci. Io sto conteggata. Nessuno ha chiesto la tua opinione e nessuno ha chiesto neanche la tua. Ho deciso così e faccio così. Sentiamo, quando pensereste di partire? Il prima possibile. Tu non vai da nessuna parte, capito? Io non vado da nessuna parte. Tu sei stata la prima ad andartene, c'avevi una figlia. Ti odio. Ti odio, ragazzo. È impossibile. Non so più cosa devo fare, papà. Mi sembra di sbagliare tutto con lei. Allora stai diventando genitore a tutti gli effetti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti